La nostra divisione è uno scandalo e un ostacolo all'annuncio del Vangelo della salvezza al mondo. È la riflessione offerta lunedì da Papa Francesco ricevendo in Vaticano l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Anche noi ci sentiamo confussi per la distanza che esiste tra la chiamata del Signore e la nostra povera risposta. Davanti al suo sguardo misericordioso non possiamo fingere che la nostra divisione non sia uno scandalo, un ostacolo all'annuncio del Vangelo della salvezza del mondo. La nostra vista non è di rado e offuscata dal pezzo causato dalla storia delle nostre divisioni e la nostra volontà non sempre è libera da quell'ambizione umana che a volte accompagna persino il nostro desiderio di annunciare il Vangelo secondo il comandamento del Signore. Nel corso dell'incontro il Pontefice ha rimarcato l'urgenza di camminare insieme per promuovere la preghiera e la pace e per abbattere la povertà e tutte quelle forme di schiavitù moderna che già in altre occasioni erano state indicate come sfide comuni. Molte sono le iniziative caritative nate dalle nostre comunità e condotte con generosità e coraggio in varie parti del mondo. Penso in particolare alla rete di azione contro la tratta delle donne creata da numerosi istituti religiosi femminili. Ci impegniamo a perseverare nella lotta alle nuove forme di schiavitù confidando di poter contribuire a dare sollievo alle vittime e a constatare questo tragico commercio. Come discepoli inviati a guarire il mondo ferito ringrazio Dio che ci ha reso capaci di fare fronte, fronte comune contro questa gravissima piaga con perseveranza e determinazione. Papa Francesco ha espresso poi soddisfazione per il lavoro delle commissioni internazionali anglicano-cattoliche che esaminano in spirito costruttivo le vecchie e le nuove sfide dell'impegno ecumenico, un itinerario significativo da percorrere sempre con la certezza che l'unità può essere raggiunta solo grazie all'opera dello Spirito Santo. Il nostro progresso verso la piena comunione non sarà semplicemente il risultato delle nostre azioni umane ma libero dono di Dio. Lo Spirito Santo ci dà la forza di non scoraggiarci e ci invita ad affidarci con piena fiducia alla sua azione potente. L'incontro in Vaticano si è concluso con un momento di preghiera comune nella Cappella Urbano VIII, un'orazione levata all'unico Signore davanti alle comuni preoccupazioni e ai mali che ancora oggi affliggono la famiglia umana.